Avevano promesso che avrebbero riempito le casse comunali e invece dopo alcuni anni stanno ancora aspettando quanto promesso. Sono i comuni della Capitanata che hanno fatto installare sul loro territorio le paleoliche con la promessa che la vendita dell'energia prodotta dal vento avrebbe riempito le loro casse. Invece sarebbero ancora oltre 5 milioni di euro che le società dovrebbero ancora versare ai comuni del territorio. Società che invece denunciano le stesse amministrazioni comunali incassano regolarmente i contributi dello Stato. Tra i comuni in attesa del denaro promesso anche Biccari il cui sindaco Gianfilippo Mignogna parteciperà ad un tavolo tecnico a Roma per affrontare il delicato problema. È un problema ormai importantissimo per i nostri comuni che da circa due anni soffrono delle carenze di bilancio mostruose per l'interruzione dei pagamenti da parte delle società e delle royalties. Stiamo chiedendo alla politica una soluzione normativa rispetto a questo problema visto che ormai tutti i tar danno ragione alle società che hanno interrotto il pagamento in alcuni casi anche molto consistente di queste royalties ai comuni mettendo a rischio i bilanci di questi piccoli enti locali. Sono tantissime Biccari tra l'altro è uno dei comuni che ha meno paleoliche rispetto ad altri quindi veramente stiamo parlando di un fenomeno dalle proporzioni molto importanti sia dal punto di vista del numero di paleoliche che insistono nei Montidani sia dal punto di vista della produzione di energia che viene realizzata nel nostro territorio. È un paradosso che il pezzo di Puglia che produce più energia per il sistema nazionale sia anche il pezzo di Puglia più povero e quindi tra l'altro inserito nelle aree interne proprio a dimostrazione della sua debolezza economica e questo è un paradosso perché un territorio che produce tanta ricchezza non può essere povero come il nostro.